Allora, tanto per cominciare, grazie a Maria Antonietta e agli organizzatori del convegno per avermi invitato una seconda volta a parlare e a tediarvi con qualche considerazione. Mi fa piacere particolarmente intervenire dopo l'intervento precedente perché è in linea, nel senso che l'intervento precedente si è parlato di conservazione del paesaggio, soprattutto di una conservazione, di un riutilizzo intelligente del paesaggio di guerra, cosa che in Italia non sempre succede. Anzi, visto poi gli esempi che farò, di solito succede esattamente il contrario. Il mio intervento riguarda il paesaggio di guerra, la conservazione del paesaggio di guerra. Quello che viene fatto oggi sul paesaggio di guerra, io parlerò soprattutto, anzi quasi esclusivamente, di paesaggio di guerra riferito alla prima guerra mondiale, perché è il periodo di cui mi occupo di solito ed è quello che conosco meglio. Mi ha fatto piacere invece l'intervento precedente perché si parla di un paesaggio di guerra, di un periodo abbastanza, diciamo così, negletto, per quello che riguarda la storia italiana, che è appunto il periodo della guerra fredda. Lo spunto, diciamo così, per il mio intervento è quello che ultimamente nelle regioni che sono state interessate dalla prima guerra mondiale, quindi che sono state interessate dal fronte della prima guerra mondiale, quindi Trentino, Friuli, Veneto e Lombardia, anche se in maniera, se misura minore, c'è stata una serie a ripetizione di interventi sul paesaggio di guerra, c'è stata una serie di valorizzazioni, restauri, recuperi, ricostruzioni che insomma non sempre, almeno dal mio punto di vista, per come la penso io, operazioni corrette e con una metodologia corretta. Inizio subito, appunto, diciamo che il mio intervento sarà più che altro un pochino, un po' così, con qualche venatura polemica e così buttorò delle considerazioni, poi per qualche riflessione ulteriore da parte di chi se ne intende più di me e ha più possibilità di me di intervenire. Inizio subito con un esempio tipico di quello che succede in Italia, allora a sinistra abbiamo questa foto e qui ci troviamo sulla Gazzuoi, sulla Cengia Martini, postazione conquistata e tenuta dagli italiani durante la Prima Guerra Mondiale, c'erano gli ostiaci sulla cima del monte e gli italiani su questa cengia a metà del monte. Quella di sinistra è una foto dell'epoca, fatta nel 1916, di questa baracca che aveva questa struttura, questa forma particolare per cui spesso viene anche proposta nei libri di storia questa immagine. Sappiamo appunto chi ha costruito questa baracca, il reparto che l'ha costruita, è stata fatta nel 1916 dagli alpine del Valchisone. Chiaramente è finita la guerra, come tutte le strutture di questo tipo, è decaduta, è crollata, non era rimasto praticamente più niente se non il basamento, se non il sedime. Il Lagazzuoi qualche anno fa è stato oggetto di molti interventi di recupero, ci sono gallerie di mina, impostazioni, eccetera, eccetera. E cosa si è fatto? Si è praticamente ricostruita la baracca così com'era tale e quale. Allora, al di là del fatto che ci si chiede un po' insomma quale sia il senso di ricostruire così tale e quale com'era una baracca, io mi chiedo, in un posto come questo, in una situazione come questa, in cui esisteva la fotografia, si sa tutto di questa baracca, perché si è voluto ricostruirla, facendo un falso, perché di fatto si è fatto un falso, quando si poteva tranquillamente lasciare il posto come era, con la sensazione dell'atmosfera come erano, fare un bel cartellone didattico, mettere la foto della baracca, spiegare chi l'ha fatta, cos'era, perché è stata fatta lì e chi l'ha abitata, mentre invece è stata ricostruita la baracca e non c'è un cartello, un biglietto, niente, che spieghi all'escursionista perché quella baracca è lì, chi l'aveva fatta e per quale motivo. Questa, tanto per cominciare, è un po' la filosofia, non sempre per fortuna, ma anche spesso caratterizza gli interventi sul paesaggio di guerra in Italia, ripeto, riferito principalmente al paesaggio di guerra della Grande Guerra. Già qualche anno fa come associazione avevamo organizzato un convegno su questo tema della conservazione e del restauro del paesaggio della Grande Guerra, l'avevamo fatto a cortina d'ampezzo, e avevamo già cominciato a cercare di riflettere su queste questioni, cercando anche così di raccogliere le idee sulle metodologie da utilizzare appunto nell'intervento sul paesaggio di guerra per arrivare ad avere così almeno un minimo di metodologie condivise, cosa che poi non si è verificata. Allora io avevo lanciato questa provocazione che corriamo il rischio che però non è del tutto così campato per aria, che tra alcuni anni noi sui siti della Grande Guerra non avremo più nulla di originale, ma avremo tutto ricostruito. E avevo trovato questa citazione di Dickens che a metà dell'Ottocento era venuto in Italia a fare un viaggio e anche allora c'era un po' la mania riferita invece ai resti romani di ricostruire e quando aveva trovato un rudere invece di un tempio ricostruito aveva scritto una lettera a casa finalmente Dio sono dato, ho visto un rudere e non una cosa ricostruita. Tra un po' faremo anche noi la stessa cosa per quello che rifare riferimento al paesaggio della Grande Guerra. Perché si parla di paesaggio e non di reperti o di strutture singole? Intanto appunto questa è la definizione che è stata data di paesaggio. Il paesaggio di guerra, o il warscape come viene definito, è dato da tutti quei reperti immobili che si trovano sul territorio, manufatti di medie e di piccole dimensioni, quindi trincee, postazioni, camminamenti, caverne, ricoveri, gallerie, che troviamo ancora numerosissimi sul terreno e che sono appunto quelle che oggi sono ancora oggetto di un'ondata di restauri. Però parliamo di warscape, di paesaggio, perché questi manufatti presi di per sé singolarmente non hanno un grande valore intrinseco dal punto di vista architettonico, artistico, monumentale, anche perché erano cose fatte in serie, fatte tutte con metodologie semplici, simili, e poi erano tutte cose fatte per durare poco, fatte per durare gli anni della guerra, quindi insomma che si prevedeva fosse una cosa limitata nel tempo ovviamente. Però presi tutti nel loro insieme, presi nei rapporti fra di loro, studiando nella loro collocazione, il loro significato tattico e strategico in rapporto al terreno, alla conformazione del terreno e alla logica del sistema di difesa, ecco che tutti questi manufatti acquistano invece un significato e acquistano una loro importanza. Il paesaggio di guerra non è però solo ed esclusivamente quello della prima linea, non sono solo le trincee, non sono solo i bunker, non sono solo le gallerie, c'è anche tutto il paesaggio di guerra del di dietro, quindi delle retrovie, quindi dei magazzini, quindi dei campi di prigionia, quindi dei campi di aviazione e via discorrendo, anche nelle nostre città ci sono dei paesaggi di guerra riferiti alla grande guerra. Allora, intanto per cominciare, già noi oggi qui ci troviamo comunque all'interno di un paesaggio di guerra che ha un riferimento alla prima guerra mondiale, perché come sapete il Politecnico, questo Politecnico riutilizza in parte gli edifici della fabbrica della Ceretti e Tanfani, o Tanfani, non mi ricordo mai come si dica, che era la più grossa produttrice e fornitrice di teleferiche militari dell'esercito italiano nella prima guerra mondiale, quindi qui lavoravano operai che lavoravano per l'esercito e lavoravano durante la guerra, quindi già questo è un paesaggio di guerra. Abbiamo cose poi più immediate e più leggibili, tipo questa qua, vi faccio vedere che è a Feltre, la piazza del Duomo e del Castello, e c'è ancora visibile questa targa, questa tabella stradale, gli austriaci dopo il Caporetto avevano invaso il Veneto, avevano invaso quindi anche Feltre e durante la loro permanenza avevano ribattezzato questa piazza, che si chiamava credo Piazza Vittorio Emanuele, l'avevano ribattezzata in Karlsplatz, quindi in Piazza Imperatore Carlo. Tabella che è rimasta, che si può vedere ancora oggi, e che quindi un paesaggio di guerra urbano che va tutelato. C'è poi un paesaggio di guerra che è un paesaggio del riuso della guerra, questo è un tabià, cioè un edificio per scopi agricoli, che c'è in valle di San Nicolò in Trentino, questo tabià, questa costruzione, è tutta fatta con legname di riuso, di riutilizzo dei travi, dei baraccamenti o strungarici, delle postazioni che si ritrovavano nelle montagne appena lì sopra. Quindi anche questo, di fatto, è un paesaggio di guerra, guerra riutilizzata, ma è un paesaggio di guerra. Paesaggio di guerra a rischio, perché questi tabià, non è solo questo, ce ne sono altri, proprio in questi anni stanno per essere man mano ristrutturati, rifatti, ricostruiti, per cui di fatto abbattuti e ricostruiti, quindi questo legname, che era il legname dell'epoca, di guerra, viene gettato via. Il paesaggio di guerra è dato poi anche dalla viabilità, c'è una viabilità di guerra, anche qua in Trentino, in Veneto, in Friuli, sono ancora chilometri e chilometri le mulattiere, le strade, i sentieri fatti durante la guerra a scopo militare, e questi sono due esempi, sono spesso opere, così, da un punto di vista ingegneristico, piuttosto interessanti, piuttosto particolari. Faccio presente che la mulattiera che si vede a sinistra non esiste più, perché è stata recentemente spianata, allargata e, beh, non asfaltata, comunque rifatto il fondo, a scopo di... è diventata una strada forestale, quindi quella strada che c'è a sinistra non la potete più vedere. Una delle cose che ritengo abbastanza assurde di quello che si sta facendo dalle nostre parti è che, appunto, si spendono, si stanziano soldi, parecchi soldi, per rifare dei manufatti, per fare di fatto dei falsi, e nello stesso tempo si distrugge ciò che c'era di originale. approfitto delle immagini di sinistra per dire che il paesaggio di guerra è anche il bosco, spesso e volentieri nei boschi appunto del Trentino e del Veneto si vedono ancora i ceppi, alti magari un metro e mezzo o due, di alberi tagliati durante la guerra dai militari a scopo per scaldarsi, eccetera, quindi si vede ancora il bosco ferito dalla guerra e ci sono ancora segherie in Trentino che sono dotate di metal detector perché i tronchi, prima di entrare sotto la sega, devono essere monitorati perché molto spesso questi tronchi contengono ancora schegge metalliche dovute ai bombardamenti, ai proiettili che si sono conficcati nel legno. Come dicevo, appunto, spesso e volentieri gli interventi che si fanno oggi sulle località teatro di guerra e sono molti, non vengono fatti con un interesse scientifico ma vengono fatti per un interesse più che altro turistico ed economico. Sì, appunto, ormai, non dico tutte, ma quasi le nostre vallate hanno il loro bel percorso di guerra, hanno il tratto di trincea ricostruito, hanno la baracca ricostruita, tutto fatto di fatto a scopo turistico e economico perché si è resi conto che comunque il turismo storico, il turismo culturale, l'escursionismo storico è diventato un motivo d'attrazione e quindi viene giustamente sfruttato. Quindi qua ci sono un paio di esempi di questi percorsi della memoria, questo è nella zona del Grappa e quello che ho fatto vedere prima non mi ricordo a che zona faceva riferimento. Esiste una tutela legislativa del paesaggio di guerra. L'Italia il 7 marzo del 2001 ha varato una legge, la 78, che tutela appunto il patrimonio storico della prima guerra mondiale, poi dopo vediamo un attimino più nel dettaglio cosa dice. C'è poi, visto che siamo a Milano, anche a livello regionale una legge che tutela questo patrimonio, però ha un titolo leggermente diverso che dà già l'idea della sottile differenza. La legge regionale non parla di tutela del patrimonio ma parla di promozione e valorizzazione del patrimonio storico. Quindi già, come dire, si pone un fine leggermente diverso. Allora, il decreto ministeriale del 4 ottobre del 2002, cioè quello dei criteri tecnico-scientifici per l'attuazione della legge 78 del 2001, a proposito del restauro dei manufatti, dice che le modifiche devono essere documentate e non imitative, al limite del falso, delle preesistenze. E quanto al ripristino precisa, la ricostruzione dei manufatti, trincee, ricoveri, eccetera, è limitata a tratti dimostrativi per i quali è ammessa la riproduzione imitativa degli elementi mancanti. Quindi parla di tratti dimostrativi. Quindi di fatto la legge vieta di fare dei falsi, appunto consente solo dei brevi tratti a scopo di dilattico dimostrativo. La stessa legge, il 7-1-2001, ha proposto di interventi che alterino le caratteristiche materiali e storiche delle cose sopradette, mette delle sanzioni, e quindi dice qualora degli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose, ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione, di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche, si applica la pena dell'arresto da sei mese o anno e l'ammenda da un milione a 50 milioni, si parlava ancora di lire. Quindi insomma la legge di fatto tutela il paesaggio storico e soprattutto da quel che si legge vieta la ricostruzione, vieta di fare dei falsi se non per dei brevi tratti, per dei casi limitati appunto a scopo didattico. Invece, spesso e volentieri, succede esattamente il contrario, si ricostruiscono chilometri di trincee, si riscavano a chilometri di trincee, si mettono parapetti nuovi, insomma si ricostruisce la trincea più o meno così com'era o come pensano che fosse, poi in realtà secondo me non era così, ma comunque questo è un altro problema. Si rimettono in opera sacchetti a terra, e via discorrendo. Però ripeto, questo non per dei brevi tratti, si fanno centinaia, centinaia, centinaia di metri di queste cose. E mentre si stanziano soldi per fare dei falsi, quasi mai vengono stanziati i quattrini per tutelare invece, come dicevo prima, ciò che di originale rimane. Per esempio queste due iscrizioni del Deutsche Alpen Corps a Passo Fedaia in provincia di Trento, a facilissimo pericolo di asportazione, per questa zona è previsto un intervento di recupero, ripristino, valorizzazione, e bla 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 bla, non c'è stanziato un centesimo per la tutela di queste due opere. C'è poi secondo me anche un discorso di danno ambientale, perché allora cento anni fa erano state scavate le trincee, i versanti delle montagne erano stati feriti, erano stati violentati, la natura in cento anni aveva comunque pian piano ricoperto e rimarginato le ferite, e noi torniamo a riaprirle e quindi a rendere ancora in maniera così super visibile l'impatto della guerra. E questo è solo uno dei tanti esempi sul SIEF di quello che è stato fatto. Quindi c'è un problema etico, secondo me, perché comunque andare a ricostruire e rifare dei falsi in luoghi dove la gente ha combattuto, ha sofferto e anche morta, è anche, dal mio punto di vista, una mancanza di rispetto nei loro confronti, oltre che una mancanza di rispetto della memoria stessa. Paul Schofield, un archeologo inglese che si è occupato di combat archaeology e ha scritto un bellissimo libro su questo argomento, ha scritto che il senso di autenticità di un luogo è dato soprattutto dall'esperienza individuale e dalla conoscenza del luogo e della sua storia, quindi senza che gli si propinino dei falsi, basta spiegargli cosa è successo in quel posto. Un paesaggio culturale che conserva le tracce fisiche che legano il passato col presente è la condizione necessaria per sentire i luoghi del conflitto in una maniera sensibile e coinvolgente, ma soprattutto la chiave è che le cose che il visitatore vede siano autentiche e quindi non dei falsi. Questo è quello che invece ogni tanto succede dalle nostre parti. Qui siamo sempre nei pressi di Passo Falzarego, qua ci sono la zona delle Cinque Torri e qui è stata fatta quest'opera di ricostruzione scenica che a mio modo di vedere appunto richiama più Disneyland che non ha un discorso di storia. Abbiamo trincee rifatte, riscavate, baracche ricostruite, posi in opera di manichini in vetro resina, con gli uniformi, il mulo di vetro resina, il cannone in vetro resina, baraccamenti e via discorrendo. A mio modo di vedere qua insomma siamo un po' sull'eccesso e non possiamo più parlare di paesaggio di guerra ma di qualcos'altro. C'è per esempio quest'altro intervento, siamo qua, siamo nella zona del passo di Valparola, qui nel confine tra Alto Adige e Veneto. Questo era un villaggio austriaco che è sotto il passo, diciamo, quando si parcheggia al forte tra i sassi, guardando verso il fondo valle si vede questo villaggio. Io la prima volta che l'ho visto pensavo fosse un villaggio turistico, poi invece mi sono reso conto che era un villaggio della prima guerra mondiale che è stato completamente ricostruito e rifatto. Visto da sopra sembrano tanti piccoli bungalow e in realtà è la ricostruzione dei baraccamenti di questa postazione che si chiamava postazione del Weiss, era appunto una postazione, un villaggio di austriaco. Ricostruite le baracche per intero, sono state rimesse le finestre, le porte, i tetti, ci mancano solo le tendine scozzesi e le finestre e poi il patatrack era fatto. Il problema in questi casi è che oltretutto come peraltro dice qualsiasi buona norma di restauro andrebbe diversificato ciò che era l'originale da ciò che è stato poi aggiunto e ricostruito. In questi casi non viene fatta alcuna differenza, non viene segnalato in nessuna maniera quindi nessuno saprà mai quali erano, anche perché parliamo di muretti secco di muretti abbastanza semplici quindi nessuno saprà mai cosa c'era di reale, di antico e di cosa è stato invece rifatto e ricostruito. Quindi insomma andrebbero quantomeno rispettate poi le metodologie originarie quando si fanno queste ricostruzioni le metodologie originarie di costruzione cosa che invece spesso e volentieri non è stata fatta sempre sull'agazzuoi per esempio con la persona che ha fatto che ha seguito e fatto tutte le ricostruzioni di cui si parlava prima diceva che lui adesso quando rifà le baracche usa le viti invece dei chiodi perché così le viti dureranno di più nel tempo peccato che all'epoca si usavano i chiodi e non le viti quindi fra cento anni uno troverà la vita per terra rugginita e dirà va che bella una vita della grande guerra no, è una vita emessa dall'ingegnere Ealing cento anni dopo per rifarla rifacendo queste ricostruzioni si perdono anche tutte quelle informazioni di cultura materiale che il paesaggio il paesaggio storico ci dava come questa per esempio quando gli austriaci costruivano i baraccamenti li costruivano prima a fondo valle segnavano gli incastri tra i vari assi e travi in maniera da rendere più veloce la ricostruzione per non dover stare lì a provare con questi segni che voi vedete queste frecce questi triangoli questi segni anche a vernice sulle travi e sulle assi in maniera che poi quando venivano portati in quota magari anche di notte era molto più semplice ricostruire la baracca invece che stare lì a fare tante prove come dicevo prima quando si fanno queste ricostruzioni spesso non c'è neanche il rispetto per quello che era rimasto qua siamo sulla ferrata Federespiel alla costa bella c'era una scaletta originale dell'epoca che era sul percorso della ferrata naturalmente per renderla più sicuro per rendere il percorso più sicuro per gli escursionisti la scaletta è stata tolta è stata sostituita con delle scale ovviamente più idonee più sicure che per carità va benissimo per la sicurezza degli escursionisti peccato che il manufatto originale non è stato conservato ma è stato buttato via è stato buttato in un ghiaione almeno dico conservare quello che c'era in un museo o che non vengono neanche rispettate le varie fasi storiche dei manufatti questa per esempio è una fontana che c'è a passo Sadole sempre in Trentino in alto a sinistra vedete la fontana com'era prima dei restauri questa è una fontana fatta dagli Stranschutzen del Primiero nel 15 all'inizio della guerra e avevano dipinto a destra il nome del loro reparto a sinistra l'aquila l'aquila sburgica e sul petto era caricata dello scudo austriaco quindi rosso con una barra bianca orizzontale sul rosso probabilmente finita la guerra quando le truppe italiane sono scese giù in valle e passando davanti a questa a questa fontana o magari qualche mese dopo qualcuno un po' più patriotico degli altri con una manata di vernice bianca aveva trasformato lo scudo austriaco in scudo di Savoia quindi era una fase storica del manufatto anche questa peccato che quelle che hanno ricostruito e restaurato la fontana hanno voluto riportare la cosa all'inizio e quindi hanno cancellato la fase storica post-guerra del manufatto un altro esempio stamattina qualcuno a un certo punto parlava del ruolo delle sovrintendenze quando appunto si fanno si fanno lavori di questo tipo o quando a proposito di Cremona nelle ricostruzioni allora qua c'è questo monumento che mi pare che si venga chiamato tipo l'angelo dei bersaglieri che è a Forcea da Lavaredo dietro le tre cime di Lavaredo era stato messo fatto durante la guerra quindi un monumento di questo genere fatto durante la guerra vedete anche le dimensioni qui c'era un cimitero i bersaglieri avevano scolpito sulle quattro lati sulle quattro facciate della base del monumento gli stemmi dei reparti che erano presenti in zona quindi il loro davanti i bersaglieri poi dietro quelli della fanteria e via discorrendo due o tre anni fa una sezione dell'associazione bersaglieri mi ricordo se di Verona Vicenza Padua comunque Veneta ha deciso che non gli stava bene che il monumento fosse ancora questo monumento era così come è integro fino a qualche anno fa non gli stava bene non gli piaceva come era stato fatto all'epoca perché hanno deciso di sostituire le targhe sulla fronte con due targhe belle e moderne di granito grigio che non c'entra un cavolo con quello che c'è intorno è stato messo un bel freggio in bronzo che non c'entra niente con quello che c'era prima e hanno anche sostituito la targa che era la base del monumento la targa originale è stata presa messa sotto da qualche parte la vedete in basso a sinistra appoggiata in una scarpata e quindi è stato completamente snaturato un monumento che era originale che aveva la sua coerenza originale mi chiedo quale sovrintendenza ammesso che gli sia stato chiesto un permesso abbia potuto dare il permesso per fare uno scempio del genere il paesaggio di guerra come dicevo prima non è solo trincee bunker e gallerie il paesaggio di guerra è fatto anche da reperti come questi che sono numerosissimi sulle nostre montagne e che sono le lapide le iscrizioni i graffiti che i soldati hanno lasciato su tutta la linea del fronte e anche nelle retrovie è un patrimonio enorme che in questi anni viene anche qua da appassionati e privati non da istituzioni e censito e ci sono cose eccezionali come per esempio sui lagorai si trovano questi archi in porfito con la chiave di volta decorata come questa e questo è tutto un patrimonio a rischio purtroppo esiste una genia di collezionisti che pensa che queste cose stiano meglio sul cammino di casa piuttosto che lasciate nel luogo originario dove avevano un senso e davano delle informazioni questi sono due esempi di due iscrizioni che adesso non potete più vedere al loro posto perché sono state portate via quella a sinistra era passo Fedaia in questo caso credo siamo stati i primi come associazione abbiamo fatto una denuncia ai carabinieri del nucleo tutela del patrimonio storico di Venezia vedremo se c'era una qualche conseguenza e quella di destra invece era passo Pramollo e anche questa è sparita quindi due cose che non potremo più né vedere né studiare quando poi si interviene sul paesaggio di guerra per recuperarlo almeno si utilizzassero dei metodi che permettessero di recuperare dei dati scientifici ma neanche quello quando si interviene su questi siti si interviene con la pala col piccone con la ruspa come si vede a destra sul col di lana hanno portato con l'elicottero una ruspa come vedete a sinistra per riaprire le trincee questo è quello che succede in Italia sul fronte occidentale in Belgio e in Francia invece quando si recupera qualche trinceo si deve lavorare in siti riferibili alla grande guerra si chiamano gli archeologi e si opera come vedete con la cazzuola col pennello e si adottano delle metodologie un filino più scientifiche se si adottano queste metodologie per esempio non andrebbero persi reperti come questi questa è una camicetta di lino da donna dell'inizio del novecento questa camicetta era in una galleria di mina della Cazzuoi peccato che quando la galleria di mina è stata recuperata e scavata a scopi turistici nessuno se ne ha accorto ed è stata buttata via insieme al materiale di risulta qualcuno qualche appassionato passando per caso la vista e la trovata se ne ha accorto ha capito cos'era e se l'ha portata a casa questo è un camicetta da donna che era in una galleria di mina quindi una roba tantinello particolare sarebbe stato un dato perso o meglio sarebbe stato un dato acquisito se si fossero utilizzate delle metodologie un pochino più raffinate questi sono ancora degli esempi appunto di come si opera sul fronte occidentale con metodologie archeologiche sembrano una cretinata ma per esempio reperti come questi che sono assolutamente banali cioè la bocca di un calamaio e due lattine e due scatolette di carne con incisi gli anni 15-16 non vogliono dire assolutamente niente però sono state trovate queste per esempio in un baraccamento che sembrava una cosa di pastori in un posto che centrava poco con la grande guerra in realtà evidentemente è stato dimostrato che questo posto è stato utilizzato durante la guerra dagli alpini probabilmente come posto di osservazione sul fronte che era sul versante opposto della vallata appunto come dicevamo la guerra non sono solo le trincee ci sono poi tutta una serie di siti reperti monumenti eccetera anche in pianura nelle città e via discorrendo quindi parchi di via della rimembranza monumenti caduti tombe di caduti nei cimiteri civili targhe e lapidi iscrizioni che si ritrovano nelle città è stato iniziato da parte proprio del Politecnico un censimento dei monumenti caduti dei giardini dei riparchi delle rimembranze in Lombardia in cui abbiamo pubblicato appunto la prima parte del lavoro quindi appunto dicevo via delle rimembranze che possiamo vedere ancora nei nostri paesi nelle nostre città con spesso e volentieri il cipo con il nome e la foto del caduto anche qua per esempio con un altro patrimonio che necessiterebbe in questo caso sì di un minimo di interventi di manutenzione e di recupero monumenti ai caduti quello di sinistra quello di Binasco quello di a destra di Gaggiano tombe a volte a mio modo di vedere eccezionali come queste nei cimiteri dei nostri paesi per esempio quello di sinistra a Corsico è la tomba di un marinaio che è morto un marinaio semaforista morto a capo spartivento in Sardegna il giorno dopo la fine della prima guerra mondiale poi portato al suo paese quello di destra è una tomba a Binasco di un volontario dei ciclisti da mobilisti poi passato nei bersaglieri con questo bellissimo fregge in bronzo alla base della tomba dei volontari quindi anche questo è il paesaggio di guerra qua a Milano a Morivione c'è questa capelletta dedicata alla Madonna che era stata poi trasformata in capelletta a ricordo dei caduti del quartiere subito dopo la guerra questa è un'altra targa a Corsico che ricorda gli appartenenti a questa società militare di mutuo soccorso per l'esercito quindi insomma anche dalle nostre parti in pianura c'è questo paesaggio di guerra c'è qualche buon esempio quindi di intervento positivo come questo per esempio sul Brestovic che è sul Carso nella zona di Gorizia dove c'è stato un ripristino però insomma dove non c'è stata una ricostruzione alla Disneyland come quella che abbiamo visto prima ma c'è insomma un allestimento che suggerisce la guerra suggerisce quello che è successo senza però creare dei falsi quindi con delle sagome di metallo con un suggerimento insomma della situazione e con dei cartelli vedete che raccontano quello che c'era nella zona che esplicano ciò che vogliono raccontare paesaggio di guerra che corre nuovi pericoli oltre a quelli che ha già corso fino ad adesso allora sapete che l'anno prossimo iniziano così inizia il centenario e in vista del centenario si comincia a parlare di finanziamenti vengono costituiti comitati per il ricordo quindi per fare iniziative a ricordo del centenario e naturalmente uno dei capitoli principali diciamo così di spesa per queste ricorrenze è il ripristino il recupero la valorizzazione delle vestigie della grande guerra questo per esempio è un progetto che hanno fatto per la Val di Fiemme che io ho avuto modo di vedere che è una cosa assolutamente assurda perché praticamente se vuole ripristinare tutto il fronte di guerra della Val di Fiemme da Cavalese fino a Passorolle tutto cioè anche le cime di 3.000 metri vanno recuperate ripristinate e fatti dei percorsi che mi chiedo chi poi andrà a 3.000 metri in posti assolutamente alpinistici per andare a vedere la trincea comunque questo è quello che si intende fare ci sono poi i pericoli di sempre se sono a limite col tempo ditemelo ci sono poi i pericoli di sempre che sono per esempio gli impianti sciistici questo è un progetto che stanno facendo che è stato approvato quindi adesso andrà poi in opera per sul ghiaccello del Presena dove si vogliono allungare gli impianti e arrivare fino a Cima Presena Cima Presena è stata teatro nel maggio del 18 di una battaglia piuttosto famosa tanto che è stata che si è meritata tra virgolette una copertina della Domenica del Corriere è stata fatta questa relazione appunto sull'impatto ambientale dei lavori che verranno fatti tenete presente che è prevista praticamente la stazione di arrivo di una teleferica quasi sulla cima di Cima Presena e in questa relazione tecnica di impatto ambientale praticamente si dice che su questa cima c'è un capitoletto dedicato alle vestigie della Grande Guerra e si dice che su questa cima non c'è praticamente niente da preservare e quindi che si può tranquillamente fare quello che si vuole ripeto è un posto che quantomeno come memoria storica forse andrebbe tutelato visto che nella memoria degli italiani Cima Presena è ancora presente eliminiamo le tracce fisiche facciamo cancelliamo con le piste la memoria storica però si inventa una memoria una toponomastica della memoria che se non fosse tragico sarebbe da ridere allora al confine tra Veneto e Trentino non mi ricordo se era il tipieno di Lavarone o Luserna perdonatemi l'imprecisione sono state fatte delle piste in una località dove c'erano trincee in una località abbastanza nota durante l'offensiva o stega della Straf Expedition cancellato quella che era la memoria fisica dell'evento però una delle piste che hanno fatto si chiama Pista Straf Expedition quindi se per caso qualcuno se l'ho dimenticato glielo ricordiamo col nome della pista idem il progetto che vi ho fatto vedere prima del Presena sotto cima Presena c'era una postazione che si chiamava che era stata chiamata dagli alpini la Sgualdrina perché continuava a cambiare a essere presa e persa presa 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 quindi l'avranno soppegnata la Sgualdrina anche questa postazione con la pista verrà cancellata ma la pista verrà chiamata Pista Sgualdrina la cosa più divertente però è questo Residence Sussi qua ci troviamo a Passo Valles al confine tra Veneto e Trentino io mi sono chiesto per anni che cacchio volesse dire Residence Sussi pensavo che fosse così un vezzeggiativo il nome della fidanzata di quello che aveva fatto il Residence invece poi ho scoperto che lì c'erano durante la guerra i baraccamenti degli italiani i magazzini che portavano che poi rifornivano le prime linee su Cimabocca eccetera c'era la Sussistenza e quel posto era stato chiamato Pian della Sussistenza e allora quello che ha fatto il Residence siccome Pian della Sussistenza non è molto turistico ha visto bene di chiamarlo Residence Sussi copriamo con un velo pietoso ma non contenti quindi di fare le Disneyland di fare le Disneyland sulle nostre Alpi andiamo a farle anche fuori il problema è che sulle nostre Alpi hanno comunque una motivazione economica turistica ci porti la gente a vederli ci porti i turisti queste le hanno fatte in mezzo al deserto era la Main anche qua è stato previsto un parco della memoria c'è gente che va a riscavare le trincee anche nel deserto di era la Main con una piccola con un po' di attenzione in più rispetto a a quello che viene recuperato e trovato tipo queste molotof usate dai paracadutisti contro i carri armati inglesi però anche qua si mettono giù cose finte come queste segnalazioni che imitano quelle che mettevano i paracadutisti durante la guerra si riscavano le trincee si mettono queste belle cippi commemorativi in cemento così rimarranno nei secoli nei secoli e si rifanno le trincee con i sacchi a terra ripeto in mezzo al deserto chi mai andrà a vederle non si sa c'è il periodo della guerra fredda mentre in Inghilterra esiste una pubblicazione e si fanno censimenti e si tutela il patrimonio il paesaggio storico della guerra fredda in Italia a parte qualche caso raro quello che abbiamo visto ieri di base tuono e quello che ho avuto il piacere di conoscere oggi in provincia di Bolzano per il resto c'è il nulla o se no ci sono cose come queste addosso dei Galli al passo del Maniva quindi al confine tra Brescia e tra la Val Camonica e la Val Sabbia mi sembra qui c'era questa bellissima postazione radio della Nato usata fino agli anni 90 peraltro anche appunto con un impatto paesaggistico piuttosto forte è stata lasciata così abbandonata così com'era quindi con tutte le attrezzature ci sono ancora appunto le antenne radio i due orecchioni ci sono ancora le garite blindate eccetera a sinistra com'era quando è stata abbandonata quindi con tutte le attrezzature tutta la strumentazione quindi poteva diventare una bellissima un bellissimo museo di se stessa così come è stato Basetuono invece l'è stata lasciata così lì aperta a tutti e in pochi anni come vedete nelle foto a destra è stata depredata di qualsiasi di qualsiasi strumentazione e niente poi c'era qualche suggerimento che ci siamo permessi in un convegno fatto recentemente dall'ANA perché l'ANA è uno degli attori principali in tutti questi lavori di recupero del paesaggio di guerra ci siamo permessi di dare qualche suggerimento su come si possa intervenire se si decide di intervenire perché sarebbe meglio a nostro parere non intervenire sul terreno ma facendo appunto un discorso come dicevo all'inizio di tabellonistica di suggerire al visitatore all'escursionista quello che c'era attraverso le foto d'epoca perché ormai si sono ritrovate negli archivi foto di quasi qualsiasi località della guerra con appunto dei testi che raccontino quello che era successo dove invece come purtroppo sempre succede si decide di intervenire appunto si suggeriva per esempio di organizzare dei corsi per chi dovrà fare questi lavori di prevedere per esempio la presenza di un archeologo o di uno studente di archeologia quando si fanno questi lavori in maniera da poter intervenire nel caso in cui venga fuori qualcosa di interessante di evitare l'uso di escavatori considerare i siti della grande guerra come siti archeologici così come gli altri georeferenziare schedare e conservare ogni ritrovamento documentare fotograficamente le fasi di tutte le fasi del lavoro evidenziare a differenza di quello che vi ho fatto vedere prima in maniera permanente gli interventi di ricostruzione in maniera che poi un domani ognuno saprà distinguere tra il vero e il falso creare per esempio dei database dei lavori fatti cosa che fino adesso non esiste e poi una volta fatti questi lavori prevedere anche dei finanziamenti per il mantenimento di questi lavori perché questi lavori che sono stati fatti sul terreno poi spesso e volentieri non vengono più manutenzionati finisco e quindi tra 20-30 anni avremo i ruderi dei falsi che non saranno più distinguibili e già adesso abbiamo dei libri dove vengono esposte fotografie di postazioni dicendo postazioni della guerra dove invece sono evidentemente cose che erano state ricostruite grazie ho finito